E' un contratto che comunque migliora la vita di chi lavora a scuola, di chi lavora a scuola nell'università, nella ricerca e anche nelle accademie conservatori. Perché? Perché è un contratto che riguarda innanzitutto un triennio, il 2019-2021, in cui si era registrata un'inflazione di due punti e mezzo e invece ha portato aumenti di 4.2, che significa aumenti quasi del doppio rispetto a quell'inflazione. Significa che abbiamo cominciato a recuperare qualcosa persa per i periodi precedenti, quindi è stato un contratto che ha dato più soldi. Gli effetti non si sono sentiti. Questi soldi e quanta amountano? 124 euro per i docenti, 85 euro per il personale ATA. Però il problema è che non si sono sentiti nelle buste paga dei lavoratori perché l'inflazione poi è schizzata. Nel 2022 per corpo della guerra in Ucraina, nel 2023 è continuata a crescere e ancora oggi, ahimè, per il 2024 è stimata in crescita. Quindi significa che nonostante questi aumenti, che però sono arrivati persino in ritardo, sono arrivati nei momenti in cui gli stipendi oggi sono di 16 punti più bassi rispetto all'inflazione. Per questo il governo ha sbloccato un'indenità di vacanza contrattuale proprio che si può dare quando viene firmato un contratto. Ma tra i punti veramente fondamentali di questo contratto io voglio sottolineare innanzitutto un'attenzione per il mondo ATA. Un'attenzione per il mondo ATA e per il lavoro degli SGA che addirittura era sottostimato rispetto al passaggio storico della figura da segretaria di SGA, ma anche in generale di tutto il mondo ATA che soffre di più perché ha stipendi ancora più bassi dei docenti. Quelli dei docenti sono più bassi rispetto all'Europa, ma quelli ATA sono veramente bassissimi. Quindi questa attenzione è stata data, sono data un'attenzione ai precari, col pagamento anche finalmente dei tre giorni di permesso che fino a ieri erano retribuiti, una maggiore attenzione agli episodi di violenza contro le donne con un aumento dei giorni di congedo e ancora delle misure che poi vanno a impattare sulla vita di ogni giorno. Per esempio una su questa è la formazione. La formazione dovrà essere retribuita, in contrattazione si dovranno stabilire i criteri di questa retribuzione. È un principio che l'ANF portava avanti da anni in base a un diritto europeo. Un diritto europeo che noi cercheremo, se il governo finalmente doterà nel prossimo contratto delle risorse necessarie, di adeguare a tutti i livelli. Noi riteniamo che il personale precario abbia diritto a tutti i livelli giuridici ed economici dallo stesso trattamento del personale di ruolo e il motivo per cui è cambiata questa è stata la legge sulla ricostruzione di carriera. È un contratto che comunque poi alla fine apre anche rispetto ai vincoli sulla mobilità, in particolar modo sui criteri della genitorialità, sull'assistenza e sull'handicap. Quindi avremo dei risvolti anche per far riunire le famiglie finalmente rispetto ai divieti e rispetto anche agli obblighi previsti dal precedente contratto. Quindi fondamentalmente è un contratto che migliora anche e definisce i criteri sul lavoro agile e quindi alla fine migliora la vita. Si poteva fare di più? Certamente sì, è quello che faremo, però con queste risorse diciamo siamo riusciti almeno per la prima volta a firmare un contratto come Anief e Cisal che va a migliorare la vita di chi lavora ogni giorno nelle nostre scuole, nei nostri tenenti. Grazie.